anche perché lo dovevamo fare prima però insomma ci ha comunicato che poi ha un impegno quindi andiamo nella nella pausa musicale Davide poi cominciamo con anche con i nostri opinionisti di Fede Giallo-Rossa io sento nella tua voce abbastanza scoramento proprio perché ma anche io penso Davide una cosa che sai quelle partite possono anche però se tu vedevi una squadra che si entrava con l'abbà volgalmente detto calcisticamente chi ha giocato a calcio lo sa quello che voglio dire la bava alla bocca cioè con la voglia e quella grinta quella forza e invece purtroppo io a un certo punto e poi questo lo dirò spesso con questa trasmissione a un certo punto ho visto Keita andarsi a sovrapporsi a Olebas c'è una cosa che se lo faceva nel Barça i Guardiola e Tito Villanova gli avrebbero picchiato la testa fino a rompergliela non si fa non si fa il povero Keita l'ha dovuto fare nel primo tempo questa cosa un paio di volte perché non c'era nessun attaccante o che andava a sovrapporsi cioè il terzino che sale qualcuno si sovrappone non può essere l'interno di centrocampo Keita è anche lento non le sa fare queste cose lì doveva essere eh l'Iaic o Gervinho ma invece erano dentro l'area di rigore aspettare il cross di Olebas ma non sono mica Tony non sono mica Gomez non sono mica Suarez non sono mica Dzeko posso elencare gli attaccanti e arrivavano quel primo tempo questi cross di Olebas o i cross di Torositis né nulla esatto per chi che non c'è destro non c'è non c'è l'attaccante non c'è il centravanti non c'è il centravanti e il povero Keita andarsi a sovrapporre mai visto Iniesta sovrapporsi ad Abidal o a Jordi Alba o a o a Silvigno ecco posso elencare insomma tutti i terzini sinistri che ha avuto il Barza quando c'era sei tu Keita va bene andiamo nella pausa e sentiamo Andrea Di Pietro Paolo Mentre ritorna fresco e stanco da un lungo weekend guida disperata e pensa alla tv ha già negli occhi calci di rigore si ma il casello non arriva mai però quasi vede il gallo stesso lungo quella linea bianca ed è convinto di essere in manca e vede il gallo stesso lungo quella linea bianca ed è convinto che domani manca, se ne parlerà. Mentre il ritorno è fresco e stanco da un lungo weekend. Guida distratto e pensa alla tv, agli occhi persi dentro ai calci di rigore, sì ma al casello non si arriva mai. Il ritorno è dei gollo stesso, lungo per l'area bianca, ed è convinto di essere in manca. E lei, lei dà lo stesso, lungo quella linea bianca, è convinto che... E lei, lei dà lo stesso, lungo quella linea bianca, è convinto che... Eccoci, siamo tornati in diretta su Radio Roma Futura.it, c'era prima di presentare il nostro opinionista che è Andrea Di Pietropaolo. Andrea, ciao, come stai? Bene, grazie, buonasera a tutti ragazzi, buonasera Davide, buonasera Max. Allora, Davide, ci ha scritto Valerio Valeri della Tala dei Lupi, no? Per una precisazione giustamente. Lo trovi su Springer anche l'ha messa. Ok, si parlava del calendario, no? Sì, si parlava del calendario, Andrea, stavamo parlando del calendario, no? Perché c'è questo fatto che poi, paradossalmente, la classifica dice quello, però... Poi alla Juve devi aggiungerci i tre punti a Juve, guarda la sfortuna della Roma, alla Juve, alla Lazio, al Napoli, alle Fiorentina, i tre punti del Parma. Perché purtroppo il Parma, come si sta capendo, non rientrerà più e il regolamento parla chiaro che se una squadra... Non si danno i tre punti a tutte le squadre? No, 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 il regolamento dice si danno i tre punti solamente alle squadre che ancora devono giocare. Non è retroattivo? Non è retroattivo. Beh, è follia comunque, no? Scusate, non è follia, perché al di là di falsare la parte alta della classifica, magari falsa più la bassa. Anche quella bassa, certo, domenica ci sarebbe Atalanta-Parma, eh? Ah, appunto. Quindi, voglio dire... Certo, certo, è falsato, e beh, certo, è falsato. Allora, la cosa più logica sarebbe che i club si tassassero per far arrivare il Parma a giocare fino a fine stagione e poi dopo fallisce. Il problema è che nessuno gliene frega niente, no? Questi tre punti dell'Atalanta, no? Esatto. Va a 26 allunca da Cagliari e Cesena. Eh, certo. E se noi vinciamo col Chievo, supera anche il Chievo. Esattamente. Lo falsi, lo falsi. Esattamente. Ma è allucinante, e poi a questo punto io ne dico un'altra, ma la federazione che ruolo ha a questo punto? A cosa serve? A nulla. Perché se non vuoi far tassare il club, allora superentra la federazione, secondo me, o quantomeno, insomma, o alessi. Ma queste sono le solite cose del nostro italico paese. Eh sì. Fatte così, chissà se prima la mattina, diciamo. Senti, stavamo commentando con Davide appunto la partita di ieri sera. Io dicevo, al di là del risultato, perdere, vincere o pareggiare, però sarebbe stato bello che tutti avessero un po' lo spirito, avuto lo spirito di Keita. Keita non è un giocatore che noi chiameremo che entra con la balla alla bocca, perché è un giocatore di quel famoso Dream Team di Pep che usa più il cervello che i muscoli. Però ieri c'era anche molta grinta, molta... e gli altri sembravano, primo tempo specialmente, molto, come posso dirti, molto con i toni bassi. E poi, poi, vabbè, poi Tevez ha sbloccato la partita e poi le cose sono anche cambiate. Tu, questo atteggiamento, secondo te, da dove viene? È un problema di psicologia dei giocatori, è un problema che l'allenatore non gliela dà, questa voglia, questo ritmo, questa grinta? Non lo so, se hai fatto un'idea di quello che potrebbe essere? Allora, ieri sera io ho visto giocare Keita da centravanti, perché era l'unico che andava ad inserire un'area di rigore, perché poi o le basse da una parte e torositis dall'altra, qualche traversone, più o meno decente, l'hanno messo dentro. Poi, è chiaro che, se non ci va nessuno, treba dei riflessori bianconeri. Dopodiché, io credo che sia una questione, ahimè, di mentalità. E io, poi, la storia del romanista tipico è fatta di rimpianti, se quella volta, se quell'altra volta succedeva questo, è piuttosto che quell'altro. Ma io ti dico che se tu esci almeno con un pareggio da Torino, e io te lo dico, secondo me la Roma in quell'occasione meritava la vittoria, e se esci con una sconfitta di misura da Monaco, la stagione per la Roma cambia. Perché, secondo me, si affossano lì, le idee, il carattere di questa squadra si affossano lì. Che cosa succede, però? Che io non posso credere che ci sono 22, 23, 25 giocatori senza spina dorsale. Quindi io ho l'impressione che la spina dorsale manchia ai senatori di questa squadra. Vedo intanto dimesso uno come De Santis, che l'anno scorso era uno dei fulcro della squadra. Era uno di quelli che si sentiva allo stadio strilare dall'inizio alla fine della partita. Quest'anno non più. Ti dico che Tocchi e De Rossi hanno cambiato, a mio avviso, purtroppo in negativo, la partita di ieri. Perché quando poi entrano i Turbe e Florenzi, la partita cambia. Io non lo stavo vedendo in maniera... scusate, finisco subito. Sì, sì. No, no, no. Il distrattamento della partita ieri sera all'inizio, il pensiero che avevo sempre più in testa era che se non segnava la Juve, la partita non si giocava. Ieri mi sembrava, senza affidità per nessuno, la Roma ha due visse in righe. Sì, sì, sì. Finale a tre quarti. Cinque minuti di passaggi e poi... E questa cosa... Insomma, comincia un po' a stonare. Poi per come si è messa la partita ringraziamo il scelto per il successo, eh? Sì, sì, del gol di Seidu Keita. Allora, senti, la cosa che dicevamo anche con Davide prima, no? Allora, io a un certo punto ho visto una cosa che... Io ho detto prima che tu entrassi in diretta. Se la faceva l'interno sinistro dell'epoca di Peppo o di Tito, gli avrebbero... Ma succede anche adesso, ho dato un sacco di botte in testa finché non rompergli la testa. Io a un certo punto, per due volte, Seidu Keita, si è andato a sovrapporre a Olebas. Cosa che nel 4-3-3, con un falso 9, non si fa. Non si fa. Lì lo doveva fare Gervinio, Liaice. Cioè, lì lo faceva Petro. Quando Keita giocava nella posizione che ha giocato ieri, no? Lo faceva Petro e si sovrapponeva a Albital e la palla gli la dava Keita ad Albital. Albital aspettava che Petro si muoveva, la girava, si sovrapponeva, gli la dava e non crossava. Perché chi la vuoi crossa? Che c'era via e bessi dentro l'aria. La ricominciava da dietro. No, ma a Albital, poi a Keita, bla bla bla, eccetera. Ma come si fa a fare 80 cross Dorosidis al primo tempo e Olebas dalla tre quarti? Con Gervinio, Laiice e Totti dentro l'aria di rigore. A quel punto Keita, dopo che per due volte si è sovrapposto, era inutile che quel poraccio si sovrapponeva. Perché nessuno ha messo dentro l'aria di rigore. Giù, come hai detto tu, a fare l'attaccante. Ma allora questa cosa, qual è il problema? Il problema è dell'allenatore o è il problema che i giocatori non riescono più ad avere, proprio neanche a capire certi movimenti dei compagni? Allora, io ti dico quello che penso. Perché di dare sempre la colpa all'allenatore, io mi sono un po' stufato. Perché altrimenti qua ogni due anni massimo noi dobbiamo cambiare quello che sta assicurando in panchina perché le colpe sono tutte le sue. Io te ne dico un'altra invece. Proviamo a cominciare a sostituire Cervinio. che ieri non ha mai saltato l'uomo. Chiellino era terrorizzato da Cervinio. Tant'è che non gli lasciava mai più di un metro, proprio per non farsi saltare. Io ti dico questo. Il capitano viene troppo indietro a prendersi il pallone perché il centrocampo non gira. e anziché innescare le due ali che dovrebbero fare, come dici tu, una sovrapposizione, l'unico che la fa è l'Iach che però ieri sera ha giocato in tutti e tre i ruoli possibili dell'attacco, nessuno si prende più la responsabilità di trovare una cosa difficile. Hai ragione, non ci deve andare che età, ma non ci deve andare che età non solo per posizione e per ruolo, ma anche per età.